Il cantiere della ditta sostegna sul viadotto dell'Iscione, sempre in cronaca. Fino all'altro giorno i presidi sulla statale, le legittime richieste sindacali e tanto d'incontro in prefettura. Ora un altro motivo di attenzione, il furto di molti mezzi da lavoro della ditta, spariti nel fine settimana dal cantiere. Si è pensato a tutto, spostamenti aziendali dei mezzi, ma poi ha preso piede l'ipotesi del furto con tanto di denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Lucito. Denunciata la sottrazione di un escavatore, un furgone da lavoro, un bobcat e gran parte delle scorte di magazzino. Praticamente il cantiere dove gli operai erano in presidio è stato svuotato. Intanto sul fronte delle richieste dei lavoratori si registra il pagamento delle spettanze di novembre e dicembre 2023, ma non è arrivata alcuna comunicazione in merito alla ripresa della manutenzione sui giunti del viadotto. lavori ormai iniziati quattro anni fa e fermi da quasi un anno per problemi contrattuali fra ANAS e sostegna SRL. Paradoxalmente, se si addivinisse ad un accordo per la ripresa dei lavori, la cosa non sarebbe possibile per mancanza di materiale.